Buonasera a tutti, non vi presento Giovanni Floris ma ve lo presento lo stesso, Giovanni Floris. Si dice sempre non ha bisogno di presentazione, e invece ha bisogno di presentazione, perché questo non è Giovanni Floris dei saggi di economia applicata poi alla vita di tutti noi che ha scritto con grande successo in questi anni, ma è il Giovanni che si misura con la narrativa e con una storia in cui parleremo molto, che si intitola La prima regola degli Cerdana, naturalmente non possiamo dirgli qual è la prima regola degli Cerdana, è l'ultima parola del libro, però possiamo dirgli che guardando la copertina c'è un indizio sulla prima regola degli Cerdana, e non è il pallone, che pure è un protagonista centrale di questa storia. Dicevo prima Giovanni che la frase centrale di questo romanzo, che secondo me è anche un po' il cuore, quello che gli americani chiamano il concept del libro, ma è l'elemento che ti conquista di questo libro, è una frase che dice uno dei personaggi, forse il personaggio più interessante per il deus ex machina del libro, un grande imprenditore televisivo che poi ci spiegherà Giovanni a quali personaggi reali è ispirato, che dice, che fa questa domanda, dice a uno dei protagonisti che è diciamo l'alter ego suo, perché Giuseppe Rodari che è un conduttore televisivo che va in vacanza in Sardegna, ma di cui poi parleremo, e gli dice lei sa qual è l'energia più potente del mondo? E l'altro risponde, non saprei, il nucleare? Gli scienziati forse direbbero così, una donna invece direbbe l'amore, ma io invece le dico che l'energia più potente del mondo è quella sprigionata da un gruppo di amici che condividono una passione fuori tempo massimo. Ecco, pensate che se analizzare questa frase Giovanni c'è un po' tutto il libro, ma c'è un argomento di cui possiamo parlare davvero a lungo, cioè gli elementi di questa frase e di questo concetto così importante sono un gruppo di amici, quindi non il singolo, ma il gruppo, e l'esistenza di un obiettivo che li unisca tutti assieme, però questo obiettivo deve essere anche un obiettivo fuori tempo massimo. Ce lo racconti questo obiettivo? Molto volentieri, allora intanto buonasera a tutti, grazie di essere venuti, poi così tanti è veramente un grandissimo piacere e grazie a Massimo che si è prestato prima a leggerlo e ora a commentarlo. La prima regola degli Sciardana è il libro che racconta la storia di un gruppo di amici che cerca di risintonizzarsi con l'età che ha, lo fa inconsapevolmente, si sente fuori luogo, e qua arrivo alla prima risposta a quello sul gruppo, si sente fuori luogo nel tempo che vive, si sente fuori luogo perché hanno perso la passione per la vita che avevano, hanno delle vite molto diverse, sono tre amici, uno è un giornalista di successo, uno è un parafangaro, a Roma i parafangari sono gli avvocati che campano di piccole truffe alle assicurazioni con il colpo della frusta, con il paraurti abbozzato, il terzo è un imprenditore che ha avuto un'unica buona idea nella vita, l'ha sviluppata e poi questa idea gli è scomparsa tra le mani e sono anni che vive ricordandosi di questa grande impresa. Questi tre amici hanno avuto vite molto diverse, anche familiari, qualcuno ha una bella famiglia, qualcuno si è separato, qualcuno vive un brutto periodo nei rapporti personali, ma sono tutti e tre accomunati da una grande insoddisfazione. Loro sono convinti di leggere questa insoddisfazione come una malinconia dei tempi andati, di quando erano ragazzi, quando stavano a liceo insieme, quando giocavano a pallone, quando avevano le avventure. In realtà è qualcosa di più, loro sono dissonanti rispetto a un periodo storico, che è quello che viviamo tutti noi, in cui c'è spazio solo per l'individualità. Loro sanno leggere la vita solo in chiave collettiva, sanno leggerla solo in chiave di rete, questa rete può essere l'amicizia, ed è la rete che gli è più propria, ma è anche il gioco di squadra. Questo è un libro sul calcio in cui c'è solo una partita descritta. E in più di 200 pagine c'è invece una filosofia di un gruppo di disperati che cerca di organizzarsi in una rete per vincere l'invincibile. In queste avventure loro cercano di rimettere su una squadra di un paese, qualcuno lo fa perché spera di fare una truffa, qualcuno lo fa perché ci crede, perché vuole giocare a pallone semplicemente, qualcuno lo fa perché scappa da dei problemi che ha nella sua città. Vanno tutti e tre in Sardegna accompagnati fondamentalmente da una ragazza che poi è quella che capirà il profondo spirito che anima questa avventura, che non è tanto vincere un torneo di calcio quanto risentirsi in palla più che vincere il torneo di calcio. Si scontreranno con tantissimi problemi ma alla fine avranno ben chiaro in una terra come è la Sardegna, una terra molto netta, molto chiara, molto dura anche, avranno ben chiaro che l'unica cosa che cercano loro è di riuscire a imporre il loro modo di vedere la vita, che è un modo di vedere la vita in collettivo, che contrasta con i tempi che stanno vivendo, che sono tempi in cui l'unico spazio è dato all'individuo e che se questo individuo è un blef gli viene dato ancora più spazio come scopriranno confrontandosi con un sindaco locale. Infatti come tutti i romanzi belli c'è la figura del cattivo, non può non esserci l'antagonista, che è il merda. Si gioca a carte scoperte. Guarda caso fa il sindaco, cioè in questo periodo non è esattamente la categoria più popolare. No. No, ecco. Perché il merda è il merda? Il merda è tale dai tempi del liceo. Il merda, che era un altro loro compagno di scuola, così denominato, quindi non aveva una grande reputazione neanche ai tempi di scuola, è riuscito invece in questo piccolo paese, ma più in generale nell'opinione pubblica italiana, a imporsi come una persona che ha rinunciato a tutto quello che aveva, regalandosi alla politica. Si regala alla politica e vuole solo il bene pubblico. Naturalmente lascia la sua azienda, si regala alla politica e ha un successo tale che a Roma lo vorrebbero presidente della regione Sardegna, addirittura lo vorrebbero ministro, addirittura lo vorrebbero mandare in Europa. Chi vede nel cuore del merda? Solo i tre amici del liceo, che lo conoscono da sempre. Non è la regola degli Sardegna, ma loro la chiamano la regola dell'immutabilità. Loro pensano che chi nasce tondo non può diventare quadrato, quindi loro pensano che se lui era merda al liceo rimane merda anche ora che fa politica e non hanno tutti i torti. E infatti possiamo dire che è l'unico vero elemento di politica che c'è nel libro. Il fatto che alla fine, questo lo possiamo raccontare, non è uno spoiler, cioè che per riuscire a eliminare il merda nel momento finale quando il merda si oppone alla realizzazione del sogno, la minaccia del deus ex machina della storia, questo imprenditore feliciane di cui poi parleremo, è dire se non ti levi di mezzo io parlo con Renzi e ti faccio fuori. Dal che però fai chiaramente capire che c'è bisogno quindi che gli amici di scuola, di vari sindaci del PD in tutta Italia chiamino Renzi, perché Renzi non sapendo chi sono, quanti merda ci sono nel territorio, diciamo così, si ritrova poi il partito pieno di avvisi di garantia. Bisogna dire che Renzi è la prima vittima del merda, perché è lui che ci crede nel merda, quindi diciamo sarà, invece c'è questa visione cinica che ci si può permettere ad occhio dei nuovi Shardana. Gli Shardana sono dei pirati sardi che esistevano nell'Anticristo, diciamo, hanno combattuto con gli egiziani, hanno messo nei guai i faraoni, insomma era gente molto tosta e i nostri tre eroi si sentono degli Shardana. Fuori dalle regole riescono, perché riescono a sconfiggere chi gli si oppone? Oltre a rispettare la prima regola che è buona norma a fare sempre e chi ha letto il libro sa perché, ma chi lo leggerà lo scoprirà all'ultima pagina. Loro si autorizzano a essere anche cinici, perché loro sanno dentro di loro che il cinismo non è applicato al successo di uno di loro, non è applicato all'opportunità, è applicato al confermare la rete che li tiene in vita. Loro riescono a vedere con gli infrarossi nel cuore del merda e se lo possono permettere, perché chi invece fa così per quella che ha il loro occhio una brutta causa è destinato a perdere. Se lo fai per la buona sei destinato a vincere. Loro rivalutano il salto logico che porta a valutare positivamente l'azione di una persona. Non sono obiettivi, sono partigiani, sono faziosi, si permettono quello che altri non si possono permettere perché loro sanno che è a fin di bene. Penso, io mi rivolgo alle donne presenti, non so se per voi è la stessa cosa, ma per noi maschi non c'è dubbio che questo libro intercetta quello che è il nostro vero grande sogno, cioè proprio questa idea del gruppo che realizza una cosa impossibile, il gruppo di maschi che realizza una cosa impossibile è una cosa che proprio fa parte ed è molto per noi legata al calcio. infatti mi ha molto commosso nel racconto della partita, c'è il racconto di un gol che tu forse non lo sapevi, è un gol che tu hai segnato fra l'altro, poi ne parleremo, ma quello che tu non sai è che un gol uguale a quello che tu hai segnato è stato fatto esattamente 40 anni fa domani, il 16 maggio del 76, non lo dico ai tifosi del Toro presenti che lo sanno, ma è l'ultimo Scudetto del Toro e il gol dello Scudetto fu un cross basso di Ciccio Graziani Pulici, solo un pazzo come Pulici o come te poteva farlo, si tuffò con la testa, si tuffò fra le scarpe di Gigi Danova e prese questa palla morta e la risollevò, poi io non so dirti altro perché fui sommerso da due, però l'ho rivisto quelle 3-4 mila volte diciamo su YouTube, ecco quindi rileggendola nella tua pagina mi sono commosso e ti ho praticamente visto come un alter ego di Pinci. Non posso che commuovermi anch'io sia per ospitalità sia perché diciamo il mio editore è parte in causa, quindi fu sicuramente una bella giornata. Racconta un po' perché è molto divertente, la genesi del libro nasce da una partita di calcio a cui tu hai partecipato e da un tuo colpo della strega. Allora diciamo chi ha figli maschi, io ho due figli di 12 e 8 anni, sa che se vanno a scuola calcio c'è sempre un genitore che dice facciamo il torneo dei padri. Perché c'è sempre questo malsano individuo? Perché non si sopporta. E' il merda che c'è in tutti gli ambienti. Soprattutto non tolleri che ci siano dei ragazzini che ancora possono giocare a pallone e dici anch'io lo voglio fare, o urli a tuo figlio cosa deve fare, scatta, gira, lo passa, oppure dice lo sorpassi. Io ho fatto un torneo di questi, dopo ho resistito tantissimo, ho resistito 3-4 partite, perché mia moglie diceva lo devi fare, perché i ragazzini ci tengono, io dicevo no, perché tu considera io arrivo, sono un po' sovrappeso, oppure sbaglio un gol, sarà foto, mi perseguiteranno le foto tutte, no lo devi fare, perché non è che perché tu fai televisione i tuoi figli andevano a tutti i padri, lo fanno e tu no, io no, no. Alla fine, poi lo volevo fare come un pazzo, naturalmente, alla fine mia moglie mi convince, io entro in campo, mi assicuro che la maglietta sia un extra large, che insomma non di non fare figura, entro in campo. Bordo campo e tutti i telefonini siano spenti. Dico, ma attenta, dimmi se vedi qualcuno col telefonino, non solo entro e nessuno aveva i telefonini accesi, ma il mister mi chiami e fa, Giuseppe, vieni qua. Dopo 12 anni di televisione non mi avevano riconosciuto neanche. Allora io, in quanto Giuseppe, io diciamo avevo paura, però davo per scontato che essendo un volto noto mi avrebbero messo subito in campo, perché capirai a un torneo di padri, ti arriva quello televisivo, in panchina, in panchina, sto là e aspetto. Prima non volevi essere riconosciuto, poi avresti voluto invece farti riconoscere. Ma ancora stavo là, là, stavo mezzo mezzo perché aspetto, dico, vabbè, non ho mai giocato, hanno già fatto quattro partite, però prima o poi mi fanno entrare, dico, il mister mi fa Giuseppe, tocca a te, entro e gioco malino. Io poi, diciamo, da ragazzo ero forte a calcio. Gioco malino, Giuseppe, vieni qua, finisce la mia partita. Ho giocato un dieci minuti, non mi hanno riconosciuto, ho fatto la figura di chi non sa giocare, che chi sapeva giocare da ragazzo rimane mentalmente uno forte, poi invece vai sul campo e scopri che... Allora, mi risiedo e inizio a sperare che mi riconoscano, dico, ma glielo dirà qualcuno a questi che sono da quattordici anni in televisione e facevo balla rock e faccio di martedì, sono quello che ha litigato per telefono con Berlusconi. Niente, si infortunano in due. Allora entriamo io e un altro, perché eravamo solo in due in panchina. Giuseppe, vai, e rientro in campo. Allora, a quel punto dico, senti qua, tanto sta finendo, la partita mancavano dieci minuti. A questo punto mi gioco Giuseppe. Allora, do il tutto per tutto, non ho paura di diventare ridicolo se manca un pallone. Gioco bene. Ultimo minuto, perdevamo 2 a 1, arrivo a un cross, faccio un tuffo di testa, la incorno, va sotto al 7, plano a terra. Un gol stupendo. Io mentre volo dico, questo è il momento più bello della mia vita da 30 anni a questa parte. Entra persino il pallone sotto al 7, cado a terra, mi si buttano tutti addosso, Giuseppe, Giuseppe, una cosa stupenda. Mi alzo per vedere se i ragazzini mi stavano guardando perché nel tribuna, mi alzo e sento una coltellata. Il problema è sempre l'atterraggio. L'atterraggio che mi riporta alla realtà. Se ne va Giuseppe, ricompare Giovanni col colpo della strega, un avvocato che giocava insieme a me mi fa, Floris, venga, l'aiuto io. Quello ti ha riconosciuto. Quello mi ha riconosciuto e mi ha trascinato fuori dal campo. Festeggiamenti negli spogliatoi, grande Giuseppe, c'è solo un capitano, Giuseppe, Giuseppe, viene a riprendermi mia moglie, mi porta fuori e faccio ai ragazzini. Avete visto che gol? E loro, sì, bello. Non mi avevano visto perché giocavano col telefonino. Allora, diciamo, in questo assoluto fallimento, ma in questo momento di gioia perfetta che ho vissuto in una partita del Torneo dei Padri, tra l'altro siamo andati in semifinale, la semifinale è stata sospesa per rissa. C'hanno, c'hanno. E tu eri in campo o in panchina? Io ero in campo e colpevole della rissa. Ah, colpevole. In qualche misura, non totale. Cioè, hai provocato o sei stato provocato? No, avevano messo il pallone a terra per la punizione e l'aveva allontanato. Un grande classico, diciamo. Ci convoca la direzione della scuola calcio e dice, vi facciamo fare la finale ma non tolleriamo più cose del genere. Noi sì, la finale finisce in una rissa tale che hanno sospeso la premiazione e non hanno consegnato le coppe. Io però nella seconda non c'ero, perché io almeno in quello mi ero reso conto e ci siamo dovuti comprare medaglie e coppa per conto nostro. Questa è da là parte la prima regola degli scelta. Non riusciamo a evolvere sul campo di calcio. No, dico non riusciamo a evolvere. Perché quando 20 maschi adulti si ritrovano su un campo di calcio diventano delle bestie? Perché hai 20 minuti per recuperare tutti gli anni che non... Quindi cerchi di metterci il gol, la rissa, l'abbraccio, la vittoria, la sconfitta. Cerchi in 20 minuti di mettere tutto quello che puoi, però non c'è soluzione. Diciamo, questo aspetto grottesco nel libro che spero sia divertente c'è. E come sempre a salvarli invece il razziocinio di due donne che sono una trentenne che vivrà una bellissima storia d'amore con uno dei più sconfitti di questo gruppo e invece una mamma come in Sardegna succede. Perché la Sardegna, se ci sono miei corregionali, è dichiaratamente un matriarcato. Quindi questa nonna riuscirà a rimettere in sesto tutto l'andazzo. Mi pare che ci sia anche una figura femminile che teorizza il famoso, non vogliamo parlare, il paradosso della zoccola. Ecco, vorrei che l'autore di questo profondo pensiero ce l'ho, ce l'ho diciamo, ecco, esplicitato. Ora non vorrei rovinare, la poca credibilità mi sono costruite male, però diciamo, mantengo l'occhio del cronista, diciamo, pure nel romanzo. Io ho cercato di riportare fedelmente una sorta di litigata che vidi tra due colleghe, in cui c'è una... vabbè, però non è raccontabile, però se la gioca... no, dai, leggetevelo, francamente non me la sento. Non puoi tirarti indietro a così? Ti butti sui palloni rischiando la vita e la schiena e poi ti fermi per... francamente se massimo al coraggio, perché lui almeno fa il colore, io devo, invece devo proprio... non ce la faccio. Lui ha la dignità per raccontare qualcosa del genere. Io posso raccontarlo perché sono, diciamo... Ma perché tu giochi con la fantasia, io se dico una cosa del genere vengo massacrato, no? Leggetevelo, vi prego, è fico. Senti, ma fuori dal libro, oggi manca questa cosa in Italia, cioè secondo te è veramente una delle cose che ci manca di più oggi, cioè l'idea di riuscire a... usando una frase molto antica e molto abusata, fare squadra, cioè l'idea di riuscire davvero a credere in qualche cosa in un gruppo, è la cosa che vedi più mancante in questo paese. Secondo me è il motivo del fatto che non si esce da qua in cui stiamo. L'idea del gioco di squadra non è un'idea né buonista né etica. Io mi sono sempre considerato un pragmatico. Il gioco di squadra conviene. Qual è il problema del gioco di squadra? Che complesso... Perché conviene Giovanni? Conviene perché è l'unico modo di vincere, perché nel tentativo di mettere insieme una rete e un collettivo uno affronta già i problemi che affronterà successivamente, cioè la capacità di coordinare tanti individui, tante differenze, tante potenzialità e tanti difetti ti fa scavalcare le fasi successive del progetto. Un progetto incontra sempre tantissimi problemi. Un progetto non è mai preciso, non è mai decisivo, non è mai conclusivo. Un progetto è sempre un tentativo approssimativo che fa una persona di leggere la realtà. La realtà è sempre diversa da quella che tu vuoi vedere. L'essere in tanti ti permette di avere tanti occhi sulla realtà. L'essere uno solo ha due svantaggi. Il primo è che le persone intorno a te sono convinte che ce la farai. Sono convinte che sei diverso dagli altri, sono convinte che sei diverso da loro e da chi è venuto prima di te. Siccome nessuno di noi è diverso dagli altri, questo è sempre un grandissimo errore. Perché ognuno di noi ha, questa è la mia convinzione che viene da, non da nulla, ma insomma dall'esperienza professionale, dall'esperienza familiare, dall'esperienza di vita. Ognuno di noi ha una capacità. Non è detto che sia una capacità spendibile nel campo in cui stiamo. Bisogna, e questa è la vita, secondo me cercare il campo in cui spendere la capacità. Più si è, più capacità si hanno. Se sei da solo hai un'unica capacità, che non è detto che sia quella. Portiamola in politica. Può essere che sei capace a comunicare, può essere che sei capace a organizzare, può essere che sei capace a intuire, può essere che sei capace a riflettere. Tutte queste capacità non ce le ha nessuno. Diciamo, nella mente di chi crede in Dio non ce l'ha neanche Dio. Quindi figuriamoci se ce le può avere una persona singola. Il collettivo invece è una capacità che hai di aumentare le tue potenzialità. Ogni collettivo ha bisogno dell'individuo, perché poi l'individuo che fa il gol è l'individuo che organizza. Però la incapacità di coordinare gli interessi è secondo me il grande difetto che ha il Paese in questo momento. Tutti gli interessi sono legittimi, serve qualcuno che riesca a coordinarli, a sacrificarne a volte qualcuno, a esaltarne a volte altre. Ma i passaggi complessi dell'azione politica non sono bypassabili. L'azione politica è complessa, noiosa, ha bisogno di una continua manutenzione e ha bisogno di un collettivo che ci lavori dietro. Ecco, però, mentre nella prima Repubblica, in cui noi siamo, molti di noi sono nati, esistevano davvero dei collettivi? Perché se pensiamo alla democrazia cristiana, per detto comunista, sì c'era un leader, che poi nella DC cambiava di continuo, però c'era proprio un gruppo di potere, di comando, formato da una rete di uomini. Oggi è veramente la sensazione di avere delle leadership individuali, o come nel caso dei Cinque Stelle, delle leadership addirittura non chiare, perché c'è una ditta alle spalle, la famiglia Casaleggio, ma nello stesso PD ha i Renzi che non ha costruito una squadra come hanno costruito i tuoi Renzi. Non è paragonabile alla squadra che hai fatto tu, il giglio magico non è una squadra, è un piccolo gruppo di persone che quasi sembra volersi difendere e non può governare un paese chiuso in una stanza di Palazzo Chigi. Cos'è che è cambiato? Ci sono due cose. La comunicazione, il fatto che noi giornalisti tendiamo a privilegiare la leadership e quindi si tende a declinare sempre tutto sull'individuo anziché sul gruppo. Io penso che sia il sogno della semplificazione. Il sogno della semplificazione prende tutti, che una cosa sia semplice invece di complessa. Invece tanto più è complessa, tanto più non la affronti, come secondo me non la stiamo affrontando noi. Io penso che il grande nodo del paese sia la situazione economica, l'occupazione, l'equilibrio dei conti pubblici, l'esposizione verso i mercati. Siccome viene sempre posposta o imputata all'Europa o ai cattivi sindacati e cattivi imprenditori, viene sempre affibbiata a qualcuno è un modo per non affrontarla. Però non avendovi raccontato il paradosso della zoccola, mi scatenerei sul paradosso delle elezioni romane, che invece è più polite. Voi pensate che questa malattia di cui parli tu, che non esistono più i gruppi, ma esistono solo le leadership, porterà le elezioni romane a essere decise dall'elettorato di destra, senza che ci sia un candidato dell'elettorato di destra. Ma ci sono diverse persone che si appellano all'elettorato di destra. Gli elettori della destra, non avendo un partito e quindi un unico, hanno diversi rappresentanti che li possono rappresentare. Quindi decideranno le elezioni romane votando delle persone che non necessariamente nascono da una loro rappresentanza. Perché sì, la Meloni viene da un piccolo partito della destra, Marchini si appella ed è investito da un partito. La Raggi in qualche modo lascia intendere che però... Quindi tutti chiamano un elettorato che non è stato organizzato, quindi che dovrà scegliere al di fuori di se stesso un rappresentante. Questo porterà i rappresentanti anche di centro-sinistra a guardare all'elettorato che è decisivo per decidere le elezioni romane, cioè l'elettorato di centro-destra. Quindi le elezioni romane vengono decise da un elettorato che non ha una rappresentanza unica, ma che influenza tutti gli altri rappresentanti. Quindi non abbiamo né leader di un'area politica, né un'area politica rappresentata da un leader. Questa è una crisi di rappresentanza devastante. E devastante perché naturalmente non ci sono progetti politici. Non so se avete visto quell'imitazione della Guzzanti che fa della Meloni su internet che dice il programma è qualcosa sa inventamo. Perché fondamentalmente mi sembra che... Giacchetti le hanno chiesto qual è il programma, ha detto no, dice lei ha il programma copiato da Marino. E lui ha risposto dicendo come fa ad averlo copiato? Non c'è nessun programma. Quindi diciamo siamo al massimo. Per cui non essendoci un'organizzazione elettorale, non c'è né leadership, né partito, né programma. Quindi dai una delega in bianco a una faccia, sostanzialmente. Dai una delega in bianco a un sentimento, a un momento, a un'emozione che passa. Io penso che emotivamente tutti noi siamo stati attratti da uno o da un altro leader. Non si nasce... E poi pentirci subito dopo, perché ormai è difficilissimo che un leader riesca a vincere due volte in fine. Poi pentirci, arrabbiarci e negare ai nostri occhi pure quello di buono che aveva fatto. ci comportiamo da innamorati traditi nei confronti della politica. La politica, sì, è il luogo delle passioni, ma è il luogo del raziocinio. Ma è ancora il luogo delle passioni, perché io come la sensazione, penso che molti di voi saranno d'accordo, ma anche tu forse, cioè che dopo la fine, diciamo, politica di fatto di Berlusconi, è come se ci fosse stato... Cioè Berlusconi comunque era una figura che non era politica, era una rock star, cioè era una figura... Era antropologica. Quindi attirava grandi amori e grandi odi che non erano però legati alla politica, era come Vasco Rossi, cioè una figura fuori dal... Adesso siamo tornati invece a che fare con i politici, cioè Renzi, per quanto qualcuno voglia, o per amore o per odio, cercare di trasformarlo in un altro Berlusconi. Non è Berlusconi, è un politico democristiano. E quindi non attira né in positivo né in negativo le passioni estreme di Berlusconi. Ed è come se ci fosse un rifiuto generale, mi sembra, un rilassamento che si vede anche, vorrei la tua conferma, dagli ascolti. Cioè noi ci accorgiamo in televisione che ogni volta che si parla di politica la curva si abbassa. E tu stesso, ma molto colpito in queste settimane, l'incredibile successo della parte di martedì che dedichi ai temi alimentari e che dimostrano proprio come è cambiato l'umore del paese. Qual è la situazione vista dal tuo punto di vista? Dunque, io penso che quando io iniziai Ballarò, era il 2002, gli esperti di Rai 3 mi spiegarono che un talk show che riguarda la politica può interessare in prima serata 10 persone su 100 massimo. Perché gli altri guardano uno il film, uno uno spettacolo. Cioè, diciamo, la norma nel 2002 era quella. Poi c'è stata l'epoca di Silvio Berlusconi. Ora, non misurerei mai l'interesse che riguarda la politica su un periodo in cui il Presidente del Consiglio viene inquisito per prostituzione minorile. Un Presidente della Regione viene coinvolto in uno scandalo che riguarda i transessuali. Questo è stato un periodo, c'erano le telecamere di tutto il mondo, no? Davanti al Palazzo Grazioli, eravamo seguiti da... Io mi ricordo, davo ogni anno, almeno l'intervista alla CNN, alla BBC, per spiegare il fenomeno della politica italiana. Quello è fuori dalla norma. Era un uomo che occupava, trascimava in ogni zona del giornale, perché era sport come Presidente, televisione come imprenditore di televisione, economia, costume, cronaca rosa, gialla, era di tutto. Allora, diciamo, questo, il periodo in cui Ballarò e altre trasmissioni raggiunsero il 20%, io ricordo un Santoro il 32%, era, però aveva ospite, c'erano le puntate in cui c'era ospite la Dario, in cui c'era, poi era venuto Berlusconi a farlo scontro finale. Era fiction. Diciamo, era oltre, tu prendevi non solo la politica, ma come dicevi tu, la cronaca, il costume, la società, era l'evento, era come, erano eventi, diciamo, quindi leviamo quel periodo dalla misurazione dei talk show, torniamo a un'epoca in cui stiamo tutti tra, in ogni serata, intorno al 10%, ci sono due trasmissioni, quindi intorno al 5%, poi il martedì che alla tradizione di Ballarò siamo più alti, sia noi che Ballarò, però più o meno i conti tornano, quindi non farei una questione di pubblico, farei una pubblica, una questione di che cosa ereditiamo da quell'epoca. Secondo me quell'epoca di talk show è, diciamo, quell'epoca politica, non dei talk show, quell'epoca politica lascia a molti nuovi politici l'idea che fare politica sia cavarsela nella situazione immediata. A Ballarò la persona con la battuta brillante poteva per un attimo sopravvanzare l'interlocutore. Tu hai creato tanti personaggi, cioè, la polverina, tanti personaggi che hanno fatto carriera grazie anche pensiamo a Boeri, a Poletti, a tante persone, ma, diciamo, si mettevano in mostra, però c'era una differenza. Nei tempi di quel Ballarò era una battaglia antropologica, una battaglia culturale. Io mi ricordo che andai in un ristorante in Toscana e il proprietario mi disse, guardi, le lascio il bigliettino perché io ho anche una locanda se vuole, quando vuole venire per dormire qua può venire, costiamo poco. mi lascio il bigliettino, lo ringraziai, lui si allontanò, poi gli venne un pensiero, torno indietro, mi disse, guardi, però è una cosa molto alla buona, va bene, o per persone anziane o per persone di sinistra. Quindi, diciamo, era una battaglia antropologica. Lo stesso mi spiegò che lui portava la ricevuta solo ai tavoli di sinistra, quelli di destra, dico, come li riconosce? Lui mi faceva, ma come li riconosco? Ce le ha da dieci anni in studio. Era una battaglia culturale. Quindi, se anche Bersani faceva una battuta brillante o Tremonti faceva una battuta brillante, non intaccavano gli schieramenti, perché erano degli schieramenti in cui si aderiva per una serie di ragioni non solo la scelta politica del momento. I politici di ora, dal mio punto di vista, sono meno interessanti per il pubblico, perché hanno imparato solo a fare la battuta che li fa vincere al momento. Siccome la gente è molto più profonda, intelligente di quello che presumono i politici, non si è disamorata dei talk show, si è disamorata dei politici nei talk show. Basta che un talk show cambia argomento e non fa il 5%, ma fa il 10%. I politici che ora contestano i talk show in realtà ne sono vittime il più delle volte, perché hanno imparato a affrontare la politica con una superficialità che non è tipica del talk show, e tipica di un certo politico che va nel talk show. Il talk show è una telecamera e due poltrone. Noi siamo un talk show ora, noi siamo responsabili ora se diciamo fesserie, non la telecamera, non le poltrone. Invece, a forza di guardare e di studiare i loro papà, cioè i politici della Seconda Repubblica, molti della terza hanno imparato gli atteggiamenti, ma ne mancano di profondità e di cultura. Anche di bis, proprio polemica, e soprattutto di rappresentanza. Non rappresentano, molto spesso sono cooptati, molto spesso sono rappresentativi perché bucano il video, sono scelti in base a quel motivo. Siccome noi a Ballaron non abbiamo mai accettato i politici che venivano mandati dai partiti, tanto più lo facciamo ora che la politica è molto molto friabile, cambiano con una frequenza enorme. Voi vi abituate a vedere nelle trasmissioni che loro si ostinano a definire tutte uguali le stesse persone per un 3-4 puntate, poi cambia, o no? Poi ne arrivano altre per altre 3-4. Questo è perché si capisce se sono poco consistenti. Allora, i conduttori ne cercano sempre altri. Ci sono due vie. da una parte qualcuno cerca quello che buca il video, noi invece abbiamo scelto la via più faticosa, più lenta di cercare quelli che invece approfondiscono. Quindi noi ormai, grazie anche ai tempi sterminati che Maurizio Crozza sa sottolineare nelle sue imitazioni di di venerdì, noi adesso abbiamo la possibilità di fare un giornale e non più un talk show. Quindi iniziamo con la politica, poi abbiamo l'economia, poi abbiamo i consumi, poi la cultura, poi l'alimentare, poi lo spettacolo. Così ci ascolta tanta gente. Se mettiamo gli imitatori dei politici di una volta andiamo male. Quali sono le figure, visto il caro dei politici, quali sono oggi le figure professionali che in televisione funzionano di più per il pubblico? Cioè, non solo le singole persone, le figure professionali, gli esperti di cosa? Gli esperti di cose? Di cose. Sono gli esperti di cose. nell'epoca di Ballarò avevamo uno scontro ideologico fortissimo, Berlusconiani contro antri Berlusconiani e collegavamo da fuori gli esperti Fai Conto Boeri per dire in realtà come stanno le cose con i numeri concreti. Di martedì è il contrario di Ballarò. Adesso tutti noi siamo interessati solo da cose minuscole, piccole. Mi devi dire cosa succede nel 730, mi devi dire come faccio a fare il canone, mi devi dire cosa rischio a mangiare il cornetto surgelato, mi devi dire cose. Quello che noi cerchiamo di fare è di reinserire invece idealità. Quindi mentre prima l'intervista e il collegamento era con il professore di economia adesso è con il filosofo, adesso è con la rappresentanza spirituale, adesso è con qualcuno che ci dice non vi perdete in piccole cose, cercate di mantenere lo sguardo lungo. in questo discorso i più fortunati adesso sono gli esperti di diritti del consumo e mi viene in mente una ragazza che fa l'avvocata a Firenze che noi abbiamo scoperto che si chiama Emanuela Bertucci che appena appare la gente si ferma e se la guarda ci sta oppure funziona il commercialista funziona anche Antonio Catricalà che è stato anche ministro, sottosegretario nella chiave di io non solo conosco il diritto ma so anche il legislatore come può incidere sulla tua vita in quella chiave funziona tantissimo cioè chi conosce il modo in cui ognuno di noi ha di difendersi da quello che non funziona. Dal tuo punto di osservazione quali sono oggi i sogni veri degli italiani non parlo del sogno inevitabile di trovare un lavoro al figlio di riuscire ad avere una pensione decorosa in tempi decorosi ma parlo proprio i sogni come quelli dei tuoi personaggi esistono sicuramente ancora guardate quali sono ci sono due accezioni di sogno uno è il sogno irreale che frena gli italiani e che è un'allucinazione quello di poter non fare i conti con gli errori del passato e di poter scavalcare i passaggi che servono a uscire dai guai quando si va male a scuola per ritornare ai tempi del liceo non c'è altra soluzione di studiare andare bene alle interrogazioni l'idea che si possa non dare l'interrogazione e presentarsi miracolosamente all'esame finale è un'idea deteriore questo interrompo questo dipende anche dal fatto che molte persone sono convinte di non essere responsabili cioè è comunque passato il principio che la responsabilità del debito pubblico era dei politici poi ne hanno usufruito anche milioni di cittadini ma questo passaggio ce lo dimentichiamo assolutamente anzi la più grande responsabilità non è tanto di aver usufruito del debito pubblico ma di aver votato chi l'ha fatto e di continuare a guardare non c'è una parte politica che non sostenga che gli equilibri e i conti pubblici sono dovuti solo all'Europa ora io ho un'idea diversa diciamo mi sono formato nell'epoca in cui ha governato Ciampi ho creduto nell'Europa Unita e ci credo tuttora io mi sono formato nell'idea che gli stati europei si siano messi d'accordo per avvertire lo stato che va fuori strada perché se no i mercati lo distruggono non perché sia così cioè se noi non mettiamo a posto il debito gli operatori di mercato che sono quelli che gestiscono i nostri risparmi quindi noi dicono ah questi zoppicano è come i lupi prendono la preda più debole chi è che zoppica la Grecia e la fanno a pezzi chi è che zoppica l'Italia stiamo attenti allora l'Europa ci dice attenta Italia che potrebbero prendere te come reagiamo noi dicendo ah l'Europa ci vuole stringere la gola è una reazione ingenua di chi sbatte al tavolino e prende a cazzotti il tavolino secondo me Giovanni questo è un tema importante perché l'Europa effettivamente secondo me è il grande sogno mancato noi da vent'anni è il grande sogno nessuno oggi nessuno oggi è pronto diciamo così non dico a morire che è una parola retorica ma insomma a credere ancora nell'Europa l'Europa rimane soltanto quelle brutte monete che abbiamo in tasca con quei brutti colori che ci vanno a rimpiangere le lire anche dal punto di vista estetico sembra una moneta straniera la viviamo ancora come una moneta straniera e non è nient'altro io certe volte per il mio paradosso ho detto a proposito di sport come sarebbe importante per esempio se alle Olimpiadi si presentasse non ogni singola nazione europea ma dopo i trials come in America una squadra dell'Unione Europea così noi ti faremmo in una gara per uno spagnolo gli spagnoli ma c'è manca un qualcosa che ci faccia sentire europeo l'Europa è soltanto una cosa una matrigna è verissimo e infatti il secondo sogno di cui volevo parlare è il sogno represso io penso che gli italiani sognino il successo personale in un successo collettivo che è quanto di più sano si possa sognare dal mio punto di vista cioè il successo personale o dei propri figli o della propria famiglia o del proprio progetto all'interno di un di un paese che si meriti il rispetto esterno questo sogno frustrato all'alto livello dell'Europa si sta sempre più ristringendo e diventa il sogno di se stessi del proprio quartiere del proprio paese io ho visto paesi che ora girando per presentare il libro sono stati imposti in cui ci stanno solo locali molto magari che sono anche invecchiati e che siccome gli vogliono mandare un paio di immigrati che vengono dall'Africa si ribellano e non li vogliono far entrare allora la difesa del del proprio orticello sta sostituendo il sogno del successo collettivo però questo è la malattia non è la soluzione la soluzione passa dal mio punto di vista solo attraverso le persone meritevoli dal mio punto di vista il valore all'Europa lo possono dare solo governanti nazionali che abbiano la statura e le capacità personali per far rinascere una dimensione collettiva del sogno politico che poi può essere il paese può essere l'Europa però va fatto dal mio punto di vista riscattare il gusto di essere una rete e poi una volta che ti piace la rete ti piace la rete del tuo paese della tua nazione dell'Europa ti piace la rete però ti deve piacere però Giovanni una rete noi l'avevamo costruita nel dopoguerra i nostri padri che era il welfare che era lo stato sociale criticatissimo responsabile del debito pubblico ma straordinario ancora adesso mi è successo di parlare con dei ragazzi americani e quando tu gli dici che le tasse universitarie in Italia sono alte loro rimangono a bocca aperte perché per loro sono bassissime un ragazzo americano per studiare si indebita fino alla fine della sua vita praticamente quindi noi stiamo andando verso quel modello americano ecco e questo io penso è una delle ragioni per cui c'è questa ribellione questa rabbia perché in realtà l'italiano e l'europeo non vuole il modello anglosassone vuole stare ancora in un modello non diciamo socialista ma sociale secondo te riusciamo a difenderlo questo modello ancora in minima parte? dipende da chi lo interpreta cioè noi abbiamo bisogno di leadership abbiamo bisogno però di leadership positive che agiscano sulle speranze e non sulle paure in Chardana c'è un personaggio reale che è Franco Selvaggi io non so se te lo volevo chiedermi forse voi torinisti e voi torinesi lo ricordate più di altri come Franco Selvaggi fu un giocatore degli anni 80 che giocò in Cagliari Inter Udinese Torino giocatore fortissimo un grandissimo centravanti segnò anche due gol in un derby quindi ce lo ricordiamo bene giocò pure nella mia squadra la Roma segnando un gol in due presenze era un giocatore veramente di altissimo livello fu portato da Berzot ai mondiali l'Italia dei mondiali dell'82 che vinse i mondiali era un'Italia molto schematica giocavano in undici tre erano riserve quelli che potevano giocare ed erano Vierkwood Causi e Dossena fondamentalmente Bergomi e gli altri andavano in panchina Franco Selvaggi non andò neanche in panchina fece tutto il mondiale in tribuna senza neanche mai fece il badante di Tardelli però aveva una grande qualità quando lo intervista Marino Bartoletti gli dice ma tu non ti senti umiliato aver vinto un mondiale senza aver mai giocato lui risponde piccato dice no io sono stato fondamentale per il mondiale perché sapendo che non avrei mai giocato Berzotto mi mise in stanza con Tardelli che non riusciva a dormire chiacchierava con me lo tenevo sveglio e io grazie a me Tardelli ha fatto il gol ha vinto il mondiale allora per me uno che ragiona così è un genio e per me si merita di stare almeno in un libro tra l'altro volevo chiedere ma lui lo hai naturalmente coinvolto no io prima ho scritto il libro poi ma con l'idea di introdurre perché poi a un certo punto compare Selvaggi e diventa lo possiamo dire questo e diventa l'allenatore della squadra diventa l'allenatore della prantigetta della scuola io prima ho scritto il libro l'ho pubblicato e poi Feltrilli mi hanno detto ma gliel'hai mai detta a Selvaggi io ho detto io neanche lo conosco io pensavo che gli avessi parlato mai l'ho chiamato gli ho detto mi scusi io sono Giovanni Floris e lui ah ma mi piace molto di martedì e allora è andata bene e ho detto guardi io l'ho messa in un libro è stato simpaticissimo appunto uno con una testa così è necessariamente uno che scava le frasi che lui dice nel libro sono frasi che lui ha realmente detto nella vita a Bartoletti a Bartoletti ecco io non so si fanno segno dovete chiudere gialla gialla devi andare tu c'è un altro libro qui potremmo aprire un nuovo dibattito un nuovo forzato ho fatto anche un pezzo sul giornale quando tu per un anno non scrivi un libro la punizione che devi presentarne diciotto altri tutti nello stesso giorno e quindi devi correre da una sala all'altra no volevo chiederti ancora una cosa che prende il libro e prende tutto ecco leggetelo perché davvero è una sala lo dico soprattutto alle donne perché io capisco che l'argomento calcio su saino per quanto tu gli dica è una metafora però comunque il calcio e lo vivono guardate che veramente il calcio è veramente in questo caso una metafora e soprattutto i personaggi femminili insegnano qualche cosa tu hai già accennato l'init mi piacerebbe che tu chiudessi raccontando non il paradosso della docra ma che cosa insegnano le figure femminili di questo libro diciamo i protagonisti del libro come molte persone che conosciamo hanno diciamo una maturità emotiva di una persona di 12 anni fondamentalmente scarsa intelligenza emotiva fondamentalmente si sentono completamente arrovellati vengono salvati ripresi dal baratro da un paio di figure femminili e la figura femminile negativa appunto la teorizzatrice del paradosso e la zoccola è in realtà una persona di una lucidità e di una profondità enorme e diciamo dovendogli dare un segno di speranza a tre persone così scombiccherate loro stessi le ritrovano diciamo riescono a risontonizzarsi nella proprietà grazie a due figure femminili che li riprendono da dove erano finiti e li rimettono non in paradiso gli fanno rendere conto che anche avere 50 anni non è un delitto insomma che spero che sia almeno il messaggio più positivo del libro si può arrivare a 50 anni senza dover rimpiangere necessariamente tutto come ci chiama Fiorello noi cinquantenni non sai come come dice Fiorello salutiamo noi cinquantenni ADP amici della prostata e con questo arrivederci a tutti